Non sembra un po' un'infermiera con questa tunica? Ma tu puoi avere la maglietta nera che noi siamo tutte mega belle flue estive? Oddio vado a prendere l'altra rossa? No Che bello, sembra una cameretta inglese Scallonisi Buongiorno Caffè Amorine, bentornate o... Benvenuti sul mio canale amiche Bene Ame, come potete vedere non sono sola, sono con le mie amiche Federica e Karen E insieme siamo le K4U Trovaci Come avete letto dal titolo, Ame, quello che faremo oggi sarà che scegliamo il cibo bendate Questo video l'avevo visto fare da Ministro Riccardo tipo un mese fa Quindi ho detto, lo voglio troppo fare e quale migliore occasione di farlo qua nella mia vacanza sarda con le mie ragazze A Cagliabazze A Cagliabazze, tutte insieme con uno sfizio ed altro Io in realtà spero anche che il cibo che prenderemo, ragazzi Io ho seriamente paura, perché ragazzi sono allergica al prezzemolo Se mi capita una cosa col prezzemolo Ah, ti tocca bella? Siamo veramente ultimamente a morire di fame perché non mangiamo, da che ora non mangiamo oggi? Dall'ora di pranzo Dall'ora di pranzo Non è me Non abbiamo veramente fatto neanche uno spuntino, quindi siamo veramente Io direi di incominciare, ragazzi Assolutamente sì Perché sto a morire di... Chi è? Chi vuole essere la prima? Io spero Oddio, ragazzi, però aspetta, forse ci dobbiamo dare delle regole Tipo se... Qual è il vostro cibo, chiedete? Tipo ad esempio per me la senape Prezzemolo E quindi, ragazzi, ad esempio a me non piace la senape A Federica non piace il prezzemolo A Kevin non piace la c***a Quindi, insomma... Senta che ho venuto al c***o Ti senti qua Cosa dobbiamo fare? Ullala, ullala, ullala Ullala Adoro le mie letterine La benda, io e Federica per problemi logistici forse non la metteremo, raga Perché abbiamo le ciglia finte Sì, se no veramente ci ritroviamo con lo sguardo tipo così Esatto, raga E quindi io e Federica avevamo pensato Questo è il cellulare Tipo Kevin lo tiene e io faccio così Oppure semplicemente ad occhi... Cioè ad occhi chiusi, nel senso siamo qua Controlliamo Con me non la scampate E quindi io e Federica faremo così Se troviamo una benda, Kevin gli diamo la benda E nulla, però Giurin Giurella, Morena, Mignolino Pinky... Com'è che si chiama questo? Pinky... Pinky... No, quello è questa la Tabis Whatever Comunque, Mignolino, giuriamo che non bariamo No, no Non bareremo, raga Chi vuole essere la prima? Io Ok, Ame Apriamo Delivero Amo, girati Vai Vai Scrolla 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 su, giù, come vuoi Eccola che ha già fatto la c***a Vai Vai amo così Cosa ho fatto? Vai, non ti preoccupare Adesso fai Come non mi preoccupare? Questo Ok, va bene Vai Non mi fido dalle vostre voci Vai Ma c***o Questo Va bene, lo metto Giro Ma aspetta Le bibite Cosa? Ok, è fatto Ok, è fatto Ok, facciamo il primo check out E proseguiamo Che onza Ok, sta preparando il tuo ordine Tocca a me Tocca a te Ok Non guardare No Aspettate che mi c***o Girati bella Prendi e scrolla Vai, fai un po' Vai, vai, vai No, no, vai Giù Giù, giù, giù Vai, vai È facile così però Che portiere che c***o Ah no, che c***o sull'ordine prima Amo, madonna Se sei a scegliere l'uomo Vai amo No, raga, dai Ti metto su bevande Aspetta un attimo Ma ho cliccato un altro piatto Bevande Quanti piatti Amo, stai zitta Poi le vedi Vai Dai, scrolla Sì La mano di te Scrolla Ok Sto sudando, raga Dai, me la rovino la cena così Lo so Ok, adesso tocca a me Ok Ma ci vedi? No Fatemi il numero Quanti sono? Quattro Va bene Quanti sono? Non voglio impedire Tre Vai Scrolla Pesante è col dito Cosa vuoi fare che se... Credi mia Guardate raga Ok No, amo Perché? Che fa questo? Era solo una cosa? Sì Ah, ok Ma io non ho capito dov'è il cestino, amo Ah, è chiuso Ah, ecco Deve ritrollare Aspettiamo Rifresciamo Perché non si sa mai Ok, vai Amo Oh, ma ti calmi Vai piano, hai aperto gli ordini Vai indietro Raga, ho capito Che ne so Credimi Hai già messo la bevanda Hai già preso la bibita Combattete raga Credimi Aspetta che devi riscrollare Devi scegliere una cosa Credimi Non hai cliccato Non c'è E clicca A me l'avete rotto comunque Non c'è Oh Ok 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 Credimi L'ultimo però Ok Fatto Aspetta che dobbiamo pagare Raga, se non mi fate mangiare Orta Lo deve mangiare tutto, eh Raga, guardate voi che cosa, eh Raga, cioè Ogni volta io Sono quello sfigato Ma è possibile Qualcuno può levarmi il malocchio Da dove siete? A me perdonateci Ma non troviamo la clip Nel momento in cui Ci arriva il cibo Chiedo umilmente Venia Quindi adesso Potete goderle ancora il video Ciao PS L'ordine di Federica Hanno deciso di non inviarcelo Enjoy the video The rest of the video Da 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 Mi sono ricordato esattamente che Oltre alla cipolla Che in realtà io mi ricordo Avesse aggiunto l'aglio Ma forse l'hanno messo in polvere Tipo Ma dentro c'è anche la mozzarella di bufala Et voilà E te tocca maniata tutta Guarda quella che è andata più di fortuna Mi sa che sei tu Allora a questo punto Si A me non è arrivato A lei questa cosa improponibile Ma raga ma che miscuglio è Mi fate vedere le mie sono curioso Prima da bere Da bere Da bere Ah e da bere a noi ci è arrivata L'abbiamo fatta vedere la Fanta Ah lei ha scelto la Fanta Questa prima ordine Vabbè Allora un litro Da bere tu avrai una sensazionale acqua No raga me l'avete fatta risceglieri Ditemi la verità Che cosa? C'è la sua acqua naturale Acqua frizzante? Smeraldina Aspetta aspetta E poi da mangiare avrai un bel Chilo di gelato Ma cosa stai dicendo? No raga stai scherzando Un chilo di gelato Un chilo di gelato E te lo devi mangiare tutto adesso eh Devo mangiarmi cos'è? Pistacchio e nocciola Nocciola è? Crema forse Non mi ricordo più E immagino non mi abbiate preso un cucchiaio Certo Ma? Per chi ci hai preso? Eh? Beh Amiga Bon appetito Che il mukbang Ha benissimo E io cosa mangio? L'aria Ma tu mangi la mia pizza amore Ma vi alieni cosa mangiate di solito? Aria Bona Così nutriente Gostoso Un po' di pulviscolo Raga ma io vado in cagarella Ah tu? Tu Ammo che mi sto ingurgitando un chilo di mozzarella Con la cipolla e il tonno Ma io che vi guardo così Ammo questa nocciola è spettacolare Allora vedi ti lasciamelo un po' Raga la pizza è incollata al cartone Ma che cos'è? Credetemi eh Ammo c'è una sostanza vischiosa Ma dove Kevin? Guarda qua che cavolo è? No ammo No che schifo Ammo sembra Ma che cos'è? No raga non ce la faccio Scusa fammelo analizzare Ah è tutto c'è Kevin Non ha preso solo quello Ah è vero Tieni Ammo ti faccio un cono Ammo ti faccio un cono E beh Non è male È buono Un bel cono gelato per madre aliena Vai ammotti eh Era tutto premeditato Grazie Adesso smettila perché se vedo qualcuno che vomita vomito in città Mi sono spudano addosso raga fatevo abis Ti metto questo in fronte tipo unicorno Credetemi eh Non riesco a mangiarla Io la voglio assaggiare sono curioso raga Io non ho parole comunque Io ancora non capisco Non è male però c'è quella roba lì Dì che il gelato è buonissimo Prego ragazze Beh vaffanbro adesso me lo mangio pure io No tu non puoi l'allero Io non so cosa sto mangiando raga Prendi e metti in bocca come fai sempre Poi vi hai mangiato una gelateria che riceve un ordine da delivery A mezzanotte e mezza hanno richiesto un chilo di gelato È un cono È un cono Perché la pizza con l'uovo sopra scusami a mezzanotte Tutto a posto? Anche se devo ammettere raga non me lo sto fare niente gustando Fede smettila dai Se avevo un pudino Perché va Perché immagina il pizzettaro che a mezzanotte e mezza Devevo fare una pizza del genere Ma raga ma che cos'è questa carne? È tonno Non è tonno ma non sa di tonno Amo mi sta ben andola a vomitare 0040 make a wish Sono un anima ribele Una carbonara raga ho preso Una pizza carbonara Carbonara con aglio e bufala Io sto stamento wig credetemi E raga ma come te lo finisci un chilo di gelato Però non riesco ad andare avanti No non ce la fai più? Vuoi assaggiarla? Io la mangerai solamente se levassi tutta la roba sopra No assaggi con la roba sopra come ho fatto io Non è che il mio stomaco è meno impaziente del tuo Impaziente Kevin Qui non ci No Kevin che cosa? Vi bisogna assaggiarmi Certo Che te dico? Raga se Kevin non l'assaggia questo vigno non finisce Amo ti prego Ma tu cosa stai facendo? Niente Stai pregando Kevin prego Amo io non credimi ti voglio bene ma non ce la faccio Che schifo mi state macchiando tutto il letto No raga Dai amò prima che ti cade tutto il topping Credimi eh Io mi aspettavo peggio Se ti spacciano così una carbonara su una pizza ti pianco Ah perché la carbonara sulla pizza ti coi a un piatto tipico romano A Roma non puoi capire c'è Alice Pizza perché De Roma lo sa Che fa una pizza alla carbonara buonissima Io ho finito eh Io non l'ho mai cominciato Basta Vediamoci il pensiero Ah proprio l'archiviamo? Sì sì basta Basta No beh dai però tre fette io ce l'ho fatta mangiare Ho capito abbiamo comunque Cioè è stato un grandissimo Abbiamo perso la grande perché La pizza era disgustosa Boh a quella che veniva da Marte non è arrivata la roba da mangiare E ancora a Marte secondo me Esatto la roba da mangiare è rimasta a Marte Io un chilo di gelato che poi mandava proprio il salato mandava a me stasera Aiuto io sto ho una camera da E nulla raga Esatto in ogni caso che Non so cosa salterà fuori ma secondo me vi farà piacere vedere uno sprazzo della nostra vita un po' Uno sprazzo E nulla a me La challenge non è vinta Perché ha flopato totalmente Però non è stata colpa nostra non era proprio una challenge Non era una challenge però diciamo l'ordine di Federica non è arrivato Il mio raga praticamente Non l'è finito È infinito E stai mangiando tra l'altro quello di Kevin Stai mangiando quello di Kevin Quello di Kevin è molto buono però È buonissimo Però è troppo È troppo del gelato cioè Nulla a me Spero che il video vi abbia strappato un sorriso come al solito Io penso di sì perché raga Sì anche secondo me Giusto o ridi o piagni cioè Sì Non c'è altra scelta Come al solito raga mi raccomando iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram che lo lascio qua o qua Non so mai dove ve lo lascio Adesso poi Adesso Adesso eh Adesso Ancora Ora via I loro due canali Slash IG sono qua sotto In ogni caso Grazie come al solito Dalla vostra educazione Devo essere supporto E supportarmi E nulla morine Noi ci vediamo A un prossimo video And as always Keep slang bitches Bye Non riesco ad arrivare fino là in fondo perché la videocamera è troppo lontana Love you girls Ciao Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Ha l'uovo Nell'uovo Dove No Raga Ma qua c'è una ciglia finta Ma la sordità è un uovo nei capelli La ciglia finta nel letto No 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 Grazie a tutti.